Gentili telespettatori, buona giornata, partono le consultazioni oggi, giovedì 20 ottobre. Come andrà a finire? Non lo so. Vedremo cosa dirà Berlusconi domani, questa mattina appena sveglio, magari vedrà gli UFO oggi e dirà che lui è sempre stato in contatto con mondi lontani, non lo so. Ecco, visto che ha detto di tutto. Allora, oggi, presidente merito della Repubblica, Giorgio Napolitano, verrà sentito per telefono. Prima telefonata la mattina quando Mattarella si sveglia. Come ti chiami? Napolitano, no? Poi, ore 10, presidente del Senato, senatore Ignazio Larussa, ore 11, presidente della Camera, onorevole Lorenzo Fontana, ore 12, gruppo parlamentare per le autonomie, sud Tirol fullspartime, PAT, campo base, sud Chiama Nord, del Senato. Ok, ore 12 e 30, gruppo misto del Senato, ore 16, gruppo misto della Camera, ore 16 e 30, rappresentanti della componente Alleanza Verdi e Sinistra del gruppo misto della Camera, ore 17, gruppi parlamentari Azioni Italia Viva, R.E. Non so cosa sia, scusate la mia plateale ignoranza, del Senato e della Camera, ore 18, gruppi parlamentari, Movimento 5 Stelle, del Senato e della Camera, ore 19, gruppi parlamentari, Partito Democratico, Italia Democratica e Progressista del Senato e della Camera. Alla faccia, c'è una bella giornatina, Mattarella, caspita, io sono stanco a 48 anni, quando avrò quell'età lì a fare tutte le consultazioni, messo lì, sì, certo, è un po' pesantuccio. Andiamo a venerdì 21, ore 10 e 30, quindi, attenzione, c'è ancora tutto oggi che Berlusconi ne può sparare altre, perché se il suo obiettivo è quello di far cadere Meloni, Berlusconi raggiungerà il suo culmine oggi, se il suo obiettivo è che la Meloni rompa con lui, e così non si vada più, non ci si torni alle elezioni, o Mattarella incarichi nuovamente Draghi, un governo di unità nazionale, ecco, oggi raggiungerà il suo apice Berlusconi, se il suo obiettivo è quello, vedremo, venerdì 21, ore 10 e 30, gruppi parlamentari, fratelli d'Italia, Lega Salvini Premier, Partito Sardo d'Azione, Forza Italia, Berlusconi Presidente, se lo scrive anche nel partito lui Presidente, però chiama gli altri signori, Senato e Camera, gruppo Civici d'Italia, Noi Moderati, Udc, Coraggio Italia, è un bel coraggio, Noi con l'Italia, Italia al centro, cosa manca? Manca solo palla al centro e pedalare, e poi abbiamo il Maie del Senato e componente Noi Moderati, Noi con l'Italia, Coraggio Udc, Italia al centro, e Maie del gruppo misto della Camera. Bene, per prassi salgono al Quirinale gli ex Presidenti della Repubblica, Napolitano per telefono, poi i Presidenti di Senato e Camera, e le coalizioni possono presentarsi in un'unica delegazione, come farà il centrodestra, o divisi per partito. Vista la nettezza del risultato alle elezioni, visto il numero esiguo di gruppi parlamentari, le consultazioni dureranno un giorno e mezzo, perché la consultazione di venerdì è praticamente le dieci e mezza, e alle undici, undici e un quarto hanno finito, che si devono dire, no? Perché si devono dire. Quindi da venerdì a mezzogiorno potrebbe da lì essere chiamata la Meloni per, bisogna vedere intanto Draghi cosa sta facendo, se è in giro per il mondo, per l'Europa o cosa, da lì in poi potrebbe essere, io dico utilizziamo il condizionale perché visto quello che sta combinando Berlusconi non abbiamo più nessun tipo di certezze, potrebbe essere comunque da mezzogiorno in poi di venerdì nominata la Meloni come premier, come un incarico esplorativo di fare lei le sue consultazioni, e anche lì potremmo vederne delle belle di nuove dove la Meloni deve parlare con Berlusconi e Salvini e mettersi d'accordo nel dire, allora andiamo al governo, questi sono i ministri, vi vanno bene, e lì potrebbe venire fuori di nuovo il casino, no? Io voglio la giustizia, la delega alle televisioni, l'altro voglio il Viminali, i Viminali... Comunque, vabbè, dunque la sera di venerdì 21 ottobre, la mattina di sabato 22, se tutte le nebbie del centrodestra saranno diradate, che mi sembra un po' difficile, potrebbe ricevere l'incarico di formare il governo, sempre in quelle ore Draghi, premier in carica per gli affari correnti, dovrebbe atterrare a Roma, di ritorno dal suo ultimo Consiglio europeo a Bruxelles, e se l'incarico a Meloni arriverà solo dopo questo momento, e questo per galateo istituzionale. Per curiosità, la formazione più lunga di un governo sono stati 88 giorni, la nascita del governo Conte 1, 88 giorni sono praticamente tre mesi. Il governo Conte 1, quello con Lega, e Movimento 5 Stelle, ci sono voluti 88 giorni. L'articolo 92 della Costituzione dice, il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di questo i ministri. Quindi prima c'è la nomina della Meloni, la Meloni dice, eccoli qua i ministri, e si nominano eventualmente i ministri, se piacciono, anche a Mattarella, perché Mattarella potrebbe su qualche ministro dire, ma insomma questo proprio non mi sembra il caso, scusi, ecco, già successo, se non sbaglio con Savona, non vorrei dire una sciocchezza, col dottor Savona, ve lo ricordate, che doveva andare all'economia, lui anti-euro, c'era stato lì, credo, un impedimento proprio della Presidenza della Repubblica. Comunque, una volta che il Capo dello Stato poi conferisce l'incarico al Presidente del Consiglio, questi solitamente accetta con riserva e conduce le sue consultazioni, con i partiti disposti a sostenere il suo esecutivo. Quattro volte il Premio era accettato senza riserva, l'ultima volta nel 2008, quando Silvio Berlusconi fu incaricato dall'allora Presidente Giorgio Napolitano. Se invece il Premier incaricato fa un giro d'orizzonte con i partiti, si comincia a formare un programma e a stilare una lista di ministri. Davanti a un risultato netto, di solito in poche ore, al massimo uno o due giorni, anche queste consultazioni tra i partiti che devono formare il governo si concludono. Se le consultazioni del Premier incaricato hanno un esito positivo, questo torna al Quirinale, scioglie la riserva e viene nominato Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana. All'uscita dello studio alla vetrata, dove ha appena parlato con il Presidente della Repubblica, il neo-premier poi legge la lista dei ministri. Grazie a tutti e arrivederci.